Questo accordo ci permette di poter realizzare delle joint venture con i cinesi per sviluppare un prototipo di centrale per vedere la sua fattibilità in termini di cattura di CO2. Sono investimenti importanti che solamente attraverso la partnership con una potenza economica come la Cina noi ci possiamo permettere. Nel caso in cui questo prototipo possa avere successo si apre una strada importante di sfruttamento economico che porterà dei sicuri vantaggi anche per la Sardegna. Questo è un protocollo di intesa, adesso si dovranno sviluppare gli accordi specifici in tema di sviluppo industriale e ripeto solo guardando all'esterno, guardando al mondo noi possiamo trarre vantaggio, mettere a sfruttare le competenze che ormai abbiamo accumulato. Non riusciamo più a realizzare questi progetti di ricerca solo con le risorse interne della Sardegna o italiane. È importante andare a fare questi accordi con chi continua a sfruttare totalmente il carbone e quindi ha un interesse anche a realizzare queste nuove tecnologie.